Arriva! Attento! Libra! Il battito è stabile. Sta uscendo. Ma mancano mesi. È scivoloso, è... Che cosa è stato? Uno sbaglio. Si tratta di qualcosa di assolutamente unico al mondo. È vuoto. Clay! 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 Elsa, esci subito! È pericoloso! Sta crescendo in fretta. In pochi minuti cresce di giorni. È perfetta. Abbiamo passato il limite. Cosa vi aspettavate creandola? Qual era in piano? Non puoi portarla fuori. I campioni non devono uscire da qua. Non chiamarla così. Che sta succedendo? È diventata instabile. È il disastro che tutti temono. Una nuova specie che gira libera per il mondo. Una nuova specie che gira libera per il mondo. E poi se non capisce la merda. Perché non? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.